Guarda, guarda, questa sembra un polpo. Ho trovato un animale domestico che non fa rumore, non lascia peli, non fa pipì e occupa pochissimo spazio. Eccolo. Per vederla serve un microscopio, ma ricordatevi che sono un biologo e non posso avere un animale di compagnia normale come gli altri. Quando si dice sei un ameba di solito si pensa a una persona apatica, con poca personalità, e invece vi dimostrerò che le amebe di personalità ne hanno da vendere. Signore e signore vi presento la mia amica ameba o amico. Le amebe non hanno sesso. Se la vostra casa è troppo piccola per un cane, se non avete un giardino per tenere un cammello, tenere un ameba può dare grandissime soddisfazioni. Per mostrarvi le mie amebine userò un microscopio con cui mi sto divertendo moltissimo, si chiama Dipol e come vedete non è il classico microscopio da tavolo, ma è un microscopio portatile, si usa con qualunque smartphone o anche tablet, è davvero molto potente e si possono fare delle osservazioni interessanti. Lo sto sfruttando allo sfinimento in questi mesi, l'ho portato un po' dappertutto e vi farò vedere altre cose prossimamente. Immagini che vedete sullo schermo sono registrate con il mio smartphone e appunto questo microscopio Dipol. Sul mio sito per i docenti Rockscience.it c'è una nuova sezione che si chiama Viaggio Micro con tutorial e risorse per le osservazioni microscopiche e sempre per gli amici di Rockscience che sono interessati c'è un codice sconto per l'acquisto di un Dipol, vi metto i link in descrizione per tutto quanto. Le amebe si trovano un po' dappertutto, ci sono specie che vivono in acqua dolce, altre in acqua salata, altre ancora riescono a parassitare gli altri organismi, compreso l'uomo. Considerate in senso stretto, sono protisti, quindi organismi unicellulari, anche se la definizione sistematica di ameba non è molto definita e le caratteristiche ameboidi, come vedremo, si trovano qua e là in natura. L'anatomia dell'ameba la studiamo al volo. Un nucleo dove stanno i cromosomi, citoplasma, la membrana cellulare è una serie di bolle chiamati vacuoli di cui parliamo dopo. La prima cosa fantastica delle amebe è come si muovono. Le amebe non hanno ciglia o flagelli per nuotare come altri organismi unicellulare e neanche hanno muscoli per strisciare come farebbe una larva. Ma non c'è nessun problema perché le amebe per muoversi cambiano continuamente forma in tutte le direzioni. Immaginate che questa sia un'ameba, la parte esterna e la membrana cellulare, per muoversi produce continuamente delle protuberanze chiamate pseudopodi che si attaccano al substrato, la protuberanza si riempie di liquido e materiale cellulare si gonfia e in questo modo la cellula striscia da un punto all'altro e trasloca il suo contenuto. Ecco il movimento dal vero che ho filmato con il dipol. Si vede la membrana che forma i pseudopodi, questa specie di blob è il contenuto cellulare che si sposta appunto nel blob. La ripresa è in tempo reale per farvi capire la velocità con cui si muove un'ameba, non proprio un fulmine, ma accelerando il filmato si vede che questi simpatici protisti non stanno fermi un attimo e si muovono continuamente cercando cibo. L'ameba è infatti voracissima, i suoi bocconi preferiti sono parameci che sono protisti cigliati, alghe unicellulari, diatome, batteri, lieviti, perfino pezzi di organismi molto più grandi di loro. Insomma l'ameba si sposta e mangia come se non ci fosse un domani, altro che apatia. E come mangiano le amebe? Le amebe non hanno un'apertura boccale, cioè un punto preciso dove entra il cibo, come ad esempio hanno i parameci e molti altri organismi unicellulari. Quando l'ameba trova un boccone lo circonda con i suoi pseudopodi e lo globa, in termini tecnici si dice che lo fagocita. La preda resta intrappolata in un vacuolo che sarebbe una bolla formata dalle membrane cellulari dell'ameba e poi viene digerita con calma e gesso dagli enzimi digestivi. Comincia a preoccuparmi. Le bollicine che vedete girare dentro questa amebe sono quasi tutti vacuoli digestivi, per così dire i microstomaci dell'ameba dove spesso si vedono anche le prede catturate. Qui si vede anche un altro organello tipico dei protisti, si chiama vacuolo contrattile ed è la valvola di sicurezza che permette a questi organismi di non esplodere. Vivendo in acqua dolce infatti l'ameba è più densa dell'acqua che la circonda e tenderebbe a gonfiarsi per osmosi fino a scoppiare come un palloncino. Il vacuolo contrattile, come dice il nome, si contrae ritmicamente e in questo modo raccoglie l'acqua in eccesso, poi quando è bello pieno si dirige in superficie ed espelle l'acqua fuori dalla cellula. All'inizio ho detto che le amebe non fanno pipì, vi ho mentito. Le specie che vivono in acqua salata invece non hanno questo problema osmotico e usano molto meno il vacuolo contrattile. Se ti piace questo video e lo trovi utile dai anche tu una mano e sostieni Rock Science. Qui in alto e in descrizione trovi un link per regalare un cappuccino a Rock Science. Ci metti due minuti, due e mi aiuti a fare andare avanti il canale. Ricorda che un canale come questo non può andare avanti solo ad e sponsorizzazioni. Ok, ora vuoi sapere dove puoi trovare un ameba da mettere sotto al lipo o un altro microscopio. Il posto migliore dove cercare le amebe è... non questo. Questi sono i posti dove cercare amebe. Legno marcio, fieno lasciato a macerare, piante in decomposizione. La prima ameba che vi ho fatto vedere l'ho trovata durante una delle mie gite all'Arno in kayak dove ho prelevato un campione di acqua stagnante. Le amebe infatti si nutrono dei batteri e degli altri microrganismi che vivono in quegli ambienti e quindi è più facile trovarle. Portatevi dietro un contenitore ermetico e cercate di raccogliere qualche campione. Se avete il dipol potete anche portarvi il dipol dietro e guardare direttamente il campione sul posto, altrimenti esaminatelo a casa con calma. Tenete presente che le amebe non sono rare se prelevate nel posto giusto ma non è facilissimo vederle perché sono trasparenti e si muovono lentamente. Le troverete più facilmente in fondo al contenitore, vicino a qualche pezzo di alga e così via, perché non stanno a zonzo in acqua ma cercano sempre di attaccarsi al substrato. Staccate dal substrato prendono invece una forma a pallina che è difficilissima da riconoscere in mezzo a tanta altra roba. Questo è spesso il motivo per cui non si riescono a vedere le amebe anche se in realtà nel preparato ci sono. Per questo dopo aver deposto il campione sul vetrino è importante lasciare riposare il vetrino all'ombra per una decina di minuti. In questo modo diamo alle amebe il tempo di riprendersi dallo shock e di attaccarsi al fondo del vetrino. Una volta attaccate al substrato le nostre amebine prendono la forma blob che conosciamo, cominciano a muoversi ed è molto più facile vederle. Se poi volete strafare potete creare il vostro allevamento di amebe. Come? Semplicissimo. Prendete qualche pezzettino di legno marcio o di fieno macerato e li mettete in una capsulina petri eventualmente aggiungendo dell'acqua. Per nutrire le bestioline si può usare un po' di lievito di birra, le amebe ne vanno pazze o anche il fieno stesso lasciato a macerare. Aspettiamo un paio di giorni e se ci sono amebe si troveranno in fondo alla capsula. Grattiamo delicatamente un po' del fondo che sarà più o meno gelatinoso e lo mettiamo sul vetrino per l'osservazione dando sempre il tempo all'amebe per riadattarsi e attaccarsi al vetrino. Qui c'è un campione del mio allevamento dove è molto facile vedere l'amebe anche in gruppetti. Se avete pazienza ne vedrete anche molte di più e più grandi, le mie sono piuttosto piccoline ma ho un po' trascurato l'allevamento. Non fate come me, vogliate bene alle vostre amebe e vi daranno grandi soddisfazioni. Come facciano le amebe ad essere così blobbose è ancora in parte un mistero ma sicuramente ha a che fare con lo scheletro interno, l'impalcatura di sostegno che in queste cellule è più fluida rispetto alle altre. L'impalcatura delle cellule è formata da fibre microscopiche di proteine chiamate microtubuli che formano un vero e proprio il reticolo. Lo possiamo vedere con tecniche avanzate di microscopia. Questa ad esempio è l'immagine di un fibroblasto con il suo scheletro interno che non è fisso ma aiuta a mantenere una certa forma. Nelle amebe questa impalcatura è in continua trasformazione. Quando il reticolo è più fitto l'ameba ha una consistenza più gelatinosa, un po' più rigida. Quando il reticolo si disfa diventa più liquida. A seconda della disposizione dei microtubuli la forma dell'ameba cambia con l'intervento probabilmente anche di fibre retrattili che garantiscono il movimento. Guarda guarda questa sembra un polpo. Fico. Qui si vede l'ameba che con i suoi tempi insegue qualcosa e poi sembra che quasi che lasci perdere. Non è un caso e succede spesso. Anche se non sembra l'ameba sa sempre dove andare. Come gli altri organismi unicellulari possiede infatti i recettori molecolari che stanno sulla superficie e sono in grado di captare una varietà di gradienti chimici. In pratica dei veri e propri sensori con cui fiutare il cibo e inseguire attivamente una preda. Le amebe tendono a preferire l'ombra e per questo hanno anche dei rudimentali fotorecettori che rilevano l'illuminazione. Se osservate un'ameba al microscopio vedrete che si muove quasi sempre lontano dal campo luminoso del microscopio. A meno che ovviamente non stia inseguendo qualche preda. Alcune specie di amebe sono perfino capaci di vita sociale grazie proprio ai recettori che captano i segnali dei loro simili. L'Oscar della socialità va al Dictiostelium, un genere di amebe giganti che normalmente vivono per conto loro ma quando il cibo scherzeggia fanno squadra e diventano un blob multicellulare che sembra una lumaca e si sposta in cerca di cibo. Impressionante e studiatissimo dai biologi come modello rudimentale di sviluppo. L'Oscar per gli effetti speciali va invece al Fisarium polycephalum, un mostro gelatinoso che molti chiamano semplicemente The Blob, ma che in realtà si è scoperto essere una delle tante specie di amebe. Anche il Fisarium vive quasi sempre per conto suo ma se manca il cibo fa squadra e forma una rete incredibilmente complessa di individui che crescono e si muovono in modo coordinato e addirittura formano rudimentali organi riproduttivi. Nel senso di cisti. Fisarium è un altro organismo misterioso e incredibile studiatissimo anche lui o anche lei per l'intelligenza rudimentale che dimostra, sicuramente superiore a molti compluttisti che conoscono. Per la cronaca tutte queste specie per quanto impressionanti sono innocue per l'uomo, molto meno per le loro prede. Alcune specie di ameba fanno parte pacificamente della nostra flora intestinale mentre altre possono parassitarci e causare disturbi più o meno gravi. L'entoameba istolitica che causa problemi intestinali è una di queste. Avete poi sentito forse parlare della cosiddetta ameba mangia cervello, un raro patogeno di cui ogni tanto parlano le cronache perché causa infezioni gravissime. Quella non è invece un'ameba in senso stretto ma un flagellato che sembra un'ameba e si chiama Neagleria faulerii, diffidate delle imitazioni di ameba. Per finire in bellezza quelli che vedete sono macrofagi, cellule spazzine del sistema immunitario che si muovono come le amebe e fagocitano roba proprio come le amebe. Milioni di anni di distanza evolutiva tra i protisti e le nostre cellule del sistema immunitario ma come vedete soluzioni simili per esigenze simili. Anche noi abbiamo qualcosa dell'ameba. Ricordate di donare qualche cappuccino a RockScience, spero di avervi fatto apprezzare questi piccoli organismi. Se poi volete acquistare un Dipol approfittate del codice sconto riservato che vi metto in descrizione. Non è un link di affiliazione, non ho percentuali sulle vendite quindi davvero un bonus per chi è interessato grazie alla collaborazione con Dipol. Cervello sempre allacciato dentro la scatola cranica, iscrivetevi al canale così non perderete anche gli altri video e alla prossima!